Dopo le proteste degli studenti noi torniamo a parlare di caro affitti in Umbria secondo gli esperti del settore sono le locazioni brevi ai turisti a farli evitare i prezzi e a ridurre il numero degli alloggi disponibili ma ci spiega tutto Dario Tomassini. La conversione di immobili un tempo destinati a contratti di locazione di lunga durata in strutture ricettive affittate per brevi periodi a turisti è una delle cause principali della riduzione di alloggi per studenti universitari anche in Umbria. L'offerta sul mercato si riduce e i prezzi salgono. Una stanza singola a Perugia costa più di 300 euro spese escluse. La protesta degli universitari partita da Milano è arrivata anche a Perugia con le tende dell'Udu piazzate davanti al palazzo della regione. I proprietari optano sempre più per locazioni di breve durata perché sono oggettivamente più redditizie. Affittando un immobile per un solo fine settimana i locatori riescono a guadagnare la stessa cifra garantita da una mensilità di un affitto a lunga durata ma questo non è l'unico vantaggio. Il pagamento avviene anticipato e soprattutto non c'è usura degli immobili e degli arredi e c'è la certezza di riottenere indietro l'immobile cosa che invece in una locazione di lunga durata tutto questo purtroppo non è garantito. Se il sindacato dei piccoli proprietari immobiliari chiede di estendere il bonus bollette agli studenti iscritti agli atenei perugini, la federazione italiana agenti immobiliari professionali ha chiesto al governo di adottare alcune misure per rendere più convenienti i contratti di affitto lunghi. Ad esempio azzerare l'IMU per chi opta per questo tipo di locazioni di più lunga durata e questo potrebbe sicuramente essere una leva importante e far tornare ad essere attrattivo la locazione lunga. Grazie.